le difficoltà di essere testimoni del vangelo oggi in italia in europa in africa e asia specie in quei paesi dove i cattolici sono piccole piccolissime minoranze per gli oltre 100 ragazzi arrivati da 33 paesi del mondo l'agora dei giovani del mediterraneo si conferma un laboratorio di cultura e di fede per scambiare storie ed esperienze per imparare ad essere sale della terra e luce del mondo a cominciare dalla vita sociale essere testimoni nelle piccole cose oggi incontrando questi ragazzi questo è stato ribadito parecchie volte che il sociale cambia lavorando nelle piccole cose e avendo sempre il cuore sulle grandi cose la vita cristiana contiene la vita sociale che non sono due mondi separati che noi siamo chiamati proprio a costruire quella città accanto alla vita affettiva al dialogo interreligioso e all'ecumenismo alle migrazioni e alla mondialità non poteva mancare la riflessione sul mondo digitale oggi è tra gli ambiti di frontiera dove promuovere l'impegno dei giovani cattolici per essere forza benefica e pacifica di cambiamento profondo come auspicato da papa benedetto sedicesimo noi sappiamo dalle ricerche fatte che i giovani fino a 24 anni nella rete soprattutto social network facebook twitter eccetera non parlano volentieri né di religione né di politica perché sono argomenti che separano che scindono mentre loro hanno bisogno di questa carezzevole omogeneità di una relazione flebile si può invece comunicare una parola densa che apra sull'esperienza personale sull'esperienza dell'uomo e della donna che poi appunto al sapore di vangelo al sapore di cafarno al sapore di nazare attra lo sapore di il sistematico e indigenza.